L'ambasciatrice della Fondazione Internazionale di Yoga è una risata formata direttamente da Madame Kataria, il medico indiano che ha inventato questo metodo portandolo ovunque. Gli effetti dello yoga e della risata sono su tantissime cose nel nostro corpo e nella nostra mente. La cosa fondamentale è la risposta allo stress che noi abbiamo una volta fatte queste tecniche di risata. Poi sicuramente anche nel nostro sistema circolatorio, nel sistema respiratorio, nel sistema immunitario agisce. Negli ambiti di lavoro questa è una cosa fantastica perché possiamo dare una risposta ai picchi di lavoro. Facendo questa pratica un quarto d'ora, 20 minuti la mattina, prima di cominciare la giornata lavorativa, i risultati sono strabilianti che poi si ripercuotono chiaramente anche sul fatturato dell'azienda che impiegando delle persone più felici e sicuramente più a loro agio, che stanno meglio, ha sicuramente dei risvolti economici e questa è la cosa che più interessa soprattutto agli amministratori delle aziende.